È una sfida entusiasmante quanto difficile, sono pronto ad affrontarla. Si presenta così Salvatore Larosa, nuovo questore di Reggio Calabria, successore del reggino Bruno Megale, nominato invece questore di Milano. Dalla questura di Ragusa a quella di Trapani, Larosa, 62 anni, è entrato nella Polizia di Stato nel 1989. Nel corso della presentazione alla stampa, Larosa ha parlato del lavoro necessario sul territorio di Reggio Calabria. Non basta la repressione, ma è necessaria una rivoluzione culturale, ha sottolineato. L'attività repressiva da sola è perdente, non riesce a sbloccare queste situazioni. Noi abbiamo bisogno di una rivoluzione copernicana culturale, in generale, ma lo dico per tutto il sud, non lo dico solo per Reggio Calabria. Abbiamo bisogno veramente di una rivoluzione copernicana dal punto di vista culturale, quindi c'è bisogno soprattutto da parte nostra di fare il nostro lavoro di prevenzione in ambito controllo del territorio e anche il nostro contributo, lì dove possiamo, per cercare di rendere il più possibile memoria di quello che è accaduto. Perché, come lei giustamente poc'anzi diceva, non si spara più o si spara poco. Giusto? Però non dimentichiamo da dove veniamo. Giusto? Noi abbiamo avuto 800 morti, lì ce ne sono stati 500, là ce ne sono stati 300, là ce ne sono stati 100. Dobbiamo cercare in qualche modo di fornire strumenti culturali per mettere nelle condizioni le giovani generazioni di comprendere di che cosa stiamo parlando, perché se fino a quando non abbiamo capito questo saremo perdenti.